Sulla sicurezza tutti si sono divertiti a dare formule vuote, a dire il nulla, è stata promossa la videosorveglianza, arriveremo a 3000 telecamere collegate con i condomini, collegate con le imprese collegate con la città. La questione legata alla legalità, legata alla sicurezza, abbiamo investito sulla videosorveglianza, bene, abbiamo investito e investiremo sul tribunale, benissimo, ma c'è una grande partita che ci vede partecipi e che ci deve continuare a interessare, è la questione della trasparenza, è la questione della legalità in città. Io da segretario comunale sono referente, responsabile della trasparenza amministrativa per legge, responsabile della legalità per legge. Se sbaglio me ne devo andare a casa, sia come politico, sia come segretario comunale. Questa è la grande verità, io me ne devo andare a casa. Questa è la grande verità, io me ne devo andare a casa. Questa è la grande verità. Questa è la grande verità. Questa è la grande verità.